Aumentano i suicidi per motivi economici in tutta Italia, ma in Campania, più che nelle altre regioni. Nel 2012 il 12,4% di coloro che decidevano di togliersi la vita lo faceva a causa di problemi economici. Oggi l'osservatorio della Link Campus University restituisce tutt'altra fotografia. Si sfiora il 22% con in testa le province di Napoli e Salerno. La fascia di età più esposta resta quella che va dai 45 ai 54 anni, con un'incidenza pari al 34,1%, nonostante continui a preoccupare la progressiva crescita del numero di suicidi tra i giovani. Complessivamente, infatti, rappresentano il 20% del totale i suicidi tra i 35 e i 44 anni e il 10% circa, quelli al di sotto dei 35. In tutto il meridione il totale dei suicidi per motivi economici passa dal 14,6% del 2012 al 31,8% del 2018. Tuttavia, se si guarda il dato complessivo degli ultimi sette anni, è ancora il nord-est a occupare la cima di questa triste classifica raccogliendo il 24,5%. Di questi, il 41,8% sono imprenditori. Grazie. 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 Grazie.